Quello che ha funzionato è un metodo, un metodo di fare politica molto serio, profondo, che non si fa attirare nel fascisti, comunisti, traditori della patria, eccetera, ma sta sulle cose. Ed è un metodo che io intendo esportare sul piano nazionale. E credo che sia pronto il Paese, perché vede il dato di queste elezioni vere, che sono stati sconfitti i sovranisti e i 5 Stelle. Lei pensi che tutte le liste dei 5 Stelle in tutta Italia hanno preso meno voti della mia lista a Roma? Quello che c'è, la sensazione, io credo che il Covid e anche la gestione di Mario Draghi abbia, come posso dire, data l'idea ai cittadini che c'è un'altra politica possibile. E io per semplicità la dico così. Una politica che non è contro, ma per qualcosa, per costruire qualcosa. Se noi svoltiamo questa cosa alle elezioni politiche, il Paese cambia in modo duraturo. Quindi lei sta lavorando in questa direzione. Per questo famoso schieramento, adesso io per comodità giornalistica dico di centro, di moderati. Guardi, io... Come lo definiamo? Allora, io l'unica cosa che non ho, né caratterialmente... Non è un moderato, dice. Anzi, deve essere il grande motore riformatore, no? Però deve essere, azione deve diventare sufficientemente forte elettoralmente, che vuol dire superare il 10%. Eh, che è già una bella ambizione. Sì, che è una bella ambizione. Per cui sostanzialmente si riesca a fare un governo che tenga insieme le persone di centrodestra pragmatiche, ragionevoli, europeiste e democratiche. Quindi lei pensa che è una parte di Forza Italia? Fa parte di Forza Italia, ma ci sono anche persone come Giorgetti che corrispondono a questo. E il Partito Democratico che, diciamo, a quel punto si può staccare dalle frange più estreme dei 5 Stelle. Perché se guardiamo la prossima legislatura dopo Draghi, noi avremo bisogno di questo. Però quando mi dicono, ma questo è impossibile perché si sono menati... Io ricordo che in Europa questo è il governo. Cioè in Europa Forza Italia sta col PD, coi liberali e sostiene Ursula contro i sovranisti, cioè Salvini e Meloni. E i 5 Stelle si sono spaccati, i pazzi sono andati a sostenere non si sa cosa e quelli più, diciamo, razionali sono entrati dentro. Allora questo non può che essere questo lo schema di Giorgio. Noi quello che non possiamo permetterci è un governo o a guida sovranista che ci farebbe saltare per aria perché sarebbe contro l'Europa o il fatto che i 5 Stelle siano talmente forti da ricominciare con le loro idiozie.